Tavoli pesanti Omaggio ad Alain Kardec a cura di Vubi Più volte, quando Holm faceva levitare tavoli pesanti, qualcuno dei presenti si metteva in ginocchio sotto di essi per accertarsi che non vi fossero trucchi. E nessuno ebbe mai l'impressione di incontrare qualche cosa di resistente o comunque sensorialmente avvertibile tra il pavimento e il tavolo levitato. Commento Daniel Douglas Holm, 1833-1886 Uno dei più grandi strumenti a effetti fisici che si conoscano. Fu studiato da eminenti studiosi in Europa e in America ma nessuno mise mai in dubbio la sua genuinità. Nato in Scozia, visse la giovinezza negli Stati Uniti dove le sue facoltà medianiche si rivelarono in pieno. Holm produceva levitazioni di tavoli con tre persone sopra, materializzazioni di mani ectoplasmiche, campanelli che suonavano in aria, colpi contro i muri che scandivano messaggi. Tornato in Europa per motivi di salute, Holm era affetto da tubercolosi che lo portò alla tomba. Fu ospite di nobili e regnanti, desiderosi di assistere ai suoi fenomeni creduti miracolosi. Si produsse dinanzi agli imperatori di Francia, allo zar di Russia, alle famiglie nobili più importanti di Francia e d'Inghilterra. Dal 1871 al 1874 avvenne la famosa serie di sedute con il fisico William Crookes che segnano l'inizio della ricerca scientifica sui fenomeni paranormali. L'episodio più famoso di tutta la carriera di Holm è la levitazione avvenuta quando era ospite di Lord Adair tra il 1867 e il 1869. Davanti a numerosi testimoni uscì in levitazione da una finestra e rientrò nell'altra. La medianità di Holm fu imponente e tipica di quei tempi del progetto spiritico che esigeva i fenomeni fisici per imporsi all'attenzione della gente. Grazie per la visione! Grazie a tutti